Il sindaco di Massafra, Fabrizio IV, insieme con la Giunta Comunale ha illustrato a Palazzo dei Notari Stefani il bilancio dell'attività svolta dall'amministrazione nella 2022. Ha toccato vari punti iniziando dalle opere pubbliche avviate e non ancora concluse che provocano qualche disagio ma che sicuramente, terminati i lavori, ha detto il sindaco, costituiranno una leva di sviluppo per la città. Il primo cittadino massafrese ha trattato anche l'argomento legato al piano urbanistico generale sottolineando la politica del fare che produce buoni frutti. Diversi passi in avanti, in particolare per il piano urbanistico che ha completato il suo laboriosissimo ITER e anche per i cantieri, tanti cantieri che si sono aperti nella città, nella parte nuova e anche nella parte antica. Sono cantieri importanti, strategici, che consentiranno alla nostra bella cittadina di riposizionarsi tra i luoghi più spettacolari quantomeno del panorama regionale. Ci teniamo molto, sappiamo che i cantieri creano disagi ai cittadini, di questi ci scusiamo, di questi disagi, ma è un sacrificio che dobbiamo compiere insieme perché restituiremo a Massafra un anticolo splendore e l'anno prossimo avremo senz'altro anche l'avvio dei bandi per quanto riguarda i lavori del castello medievale. Quindi è un processo che vede a varie tappe un percorso di avvicinamento alla restituzione anche del nostro bellissimo maniero alla frizione piena e attraverso questo lavoro stiamo anche facendo un lavoro molto profondo di ritrovamento sotto il profilo culturale delle nostre radici, della nostra storia, dell'appartenenza a questo territorio del quale siamo orgogliosi.